Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua su Shine Games Bene, come potete vedere dalle altre volte ora mi sono stabilito in una nuova dimora Ho costruito questa piccola casetta, oltre per un punto di spawn generale Perché nel prossimo video, come vi chiesto da un utente, ci sarà un tutorial sulle porte a pistoni Porta segreti, diciamo qua vediamo un bottone che potrebbe attivare qualcosa in questa zona Ma ve lo farò vedere nel prossimo video Bene, iniziamo con oggi, oggi il nostro video parlerà di una farm di esperienza di blades Sta farm è come le altre volte, ovvero noi con piove, come al solito piove in tutti i video che faccio Come le altre volte noi i nostri blades e i nostri mob non useremo armi O comunque sprecheremo le armi per uccidere i blades Ma semplicemente usando un pugno potremmo ammazzarli con un colpo E in questa affara, dato che i blades sono uno dei mob più pericolosi di Minecraft Attiviamo sempre la nostra messina scritta Sono tra i mob più pericolosi di Minecraft Non ci attaccheranno e non ci faranno danno Bene, come al solito noi andiamo, non in miniera a questo punto, ma andiamo nel nostro portale Quindi ho voluto ricostruire, diciamo, un finto portale per la nostra farm Entriamo nel portale e siamo nel nether Abbiamo trovato una fortezza E guardate caso raggiunge uno spawner di blades E vi farò vedere com'è già stato costruito Questo spawner di blades funziona in modo diverso dalle altre farm, diciamo Queste farm di blades, non spawner Perché nel nether vi ricordo che non possiamo posizionare l'acqua Quindi non utilizzeremo l'acqua ma utilizzeremo il meccanismo di compressione Ovvero un pistone schiaccerà il blocco contro un blades Che farà danno Qua vediamo già il meccanismo in funzione Il blades non cade perché comunque noi siamo qua sopra E vi farò vedere Noi siamo in blades Cadiamo Qua il pistone E qui non è in pochi casi che si bug Il pistone ci butterà giù E io volo E caderemo qua dentro Vi faccio subito vedere il funzionamento Basta eliminare queste quattro Anzi cinque Torce C'è torce Queste cinque Qualcacca si chiamano? Glowstone Andiamo giù nel nostro Diciamo Dove arriveranno tutti i blades In fondo al cunicolo Qua ci sono due Tiriamo sta leva Verranno bloccati da un pistone Schiacciamo questo E ora il nostro pistone Schiaccerà Sentite il rumore Che fa danno Dopo un periodo di tempo comunque Studiato per far sì che ci sia il danno Noi con un colpo dovremo Ammazzarli se ci avviciniamo Adesso sono morti E come avete visto anche Potete avere notato che un colpo Non è fatto un colpo Tutto ciò dipende dalla nostra linea Connessione Dal nostro mondo Diciamo Perché Il danno deriva da questo meccanismo qua Questo e questo Ho visto un creeper Non voglio danni Vabbè non importa Lasciamolo là No non è un creeper È uno zombie Comunque Questo si chiama flip flop Non sono capace Un tutorial sulla redstone È veramente complicato E infinito Diciamo Non esistono le basi Non esistono neanche le cose avanzate È tutta una questione di Studio proprio Se mi chiedete Fai un video sulla redstone Se mi chiedete Posso provarci Ma non vi assicuro niente Che posso spiegare Proprio tutto il meccanismo Perché Se avete 9 anni 10 anni Sarà molto più difficile Imparare a usare la redstone Che uno che ha 20 anni Come me per esempio Perché Perché Semplicemente È una questione di Scuola Sì perché la redstone È come se fosse La nostra corrente di casa Quindi se uno fa L'elettricista È molto più semplice O ingegnere È molto più semplice Imparare a usare la redstone Che uno che fa Qualsiasi altra scuola Tornando a noi Evitando la scuola Che l'ho finita Questo Meccanismo Cioè La corrente arriva Da corrente Cioè qua Stacca la corrente Da questo pistone Quella corrente c'è Il pistone spinge E dà corrente Al blocco Che Dando corrente A questo Fa Cioè dando corrente A questo Fa attivare Quel pistone Che spinge Il blocco L'altro Avrà La corrente C'è la corrente Però Essendo attivo Questo pistone Questo pistone Non spingerà Il blocco Dal momento in cui La corrente da questi Repeater Arriverà qua E Arriverà nuovamente Corrente Sempre sta corrente A questo blocco Farà Attivare il suo pistone E spegnerà l'altro Che spingerà il blocco Leverà la corrente Quindi questo Non avrà più L'input E questo pistone Spingerà L'altro blocco Verso Questo lato Schiacciando I blades E rifacciamolo Farò vedere Ha fatto la corrente Lì Ha spinto Questo arriva Guardate Spinge via Questo Che leva la corrente E i blades Smettono di Ricevere danno E noi Dovremmo ucciderli Beh sto demolendo Mezzo 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 Come cacchio si chiama Mezzo Spawn Mezzo Mezza farm Per ammazzare Due blades E torniamo Ora Al tutorial A come costruirlo Qua ma è rotto Lo distruggo Ok Vabbè Non ne ammazza Pazienza Andiamo via Noi siamo Noi siamo Nel nether Abbiamo trovato Il nostro Bellissimo Spawner Non l'ho messo Blades Come prima Casino Perché c'è un buco Enorme L'ho fatto io Ovviamente Perché Perché nel nether Quando noi troviamo Uno spawner Di blades Non è Come un altro Spawner Come i zombie Di skater Nel mondo Normale Che c'è un Un quadrato E lo spawner In mezzo No Nel nether Abbiamo di solito Una piccola scalinata Con delle recensioni Intorno E lo spawner Qua in mezzo E intorno È tutta lava E lo spawner È messo Un pilastro Come avete visto Ho ricostruito Il pilastro Quindi qua intorno Fate finta Ci sia tutta lava Nether Che Altri blocchi vari E qua siamo Sul nostro pilastro Noi abbiamo Già Pulito Intorno La zona E cosa ci resta da fare Bene Iniziamo a costruire Avete visto Ho messo già Questi due blocchi In altezza Il nostro spawner È qua Cosa facciamo Il nostro spawner Li facciamo Contiamo Uno e due Ho messo i blocchi Non mettete lì Uno e due Poi Al terzo Mettiamo E saliamo su Saliamo su Di Due Dallo spawner Quindi di tre Dal pian terreno Così esattamente Uno due tre E costruiamo Tutto intorno Alla nostra Cassa diciamo Cassa dello spawner Cassa Zona Zona di spawn Chiamatela come volete L'importante è che capite Lo stesso Costruiamo tutto qua Bene Una volta che abbiamo Costruito Il perimetro Non ci rimane Che fare Eh beh qua Costruisco lo stesso Lasciamo uno per uno Levare questi due Il soffitto Fatelo voi Perché nel netto Non c'è soffitto Lo lascio così Dobbiamo ora Scavare sotto Lo spawner Sotto lo spawner Andiamo a scavare Di tre Uno Uno così Due E tre Io scavo tutto Veloce 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 Così Questo dà Diciamo La sicurezza Dello spawn Del Del blades Il suo Diciamo Range di spawn Ecco qua Noi abbiamo ora Questa struttura Ovviamente intorno Sarà molto probabilmente Vuota A parte di un lato Dove arriviamo E cosa facciamo ora A questo punto Dobbiamo fare E attivare il meccanismo Quello dei pistoni Quindi Scaviamo Qua Una buca Uno per uno Per ora Giusto per Per Orientarci Andiamo a prendere Una pressure plate Che è uguale E la uso in legno E la mettiamo In tutto Il nostro Perimetro Del quadrato Ecco fatto Ora Dobbiamo dare la corrente In un lato La corrente La daremo A tutti E cinque I pistoni Dall'altro lato Invece La daremo A tre pistoni E verrà Così Dall'alto Ora Cosa dobbiamo fare Dobbiamo dare La corrente E costruire Il meccanismo Quindi mettiamo Così Mettete come Faccio io I repeater E la redstone Non bisogna ritardarlo Perché Così è A risparmio Di redstone E materiali E manca qua Bene Ora che abbiamo fatto questo Bisogna posizionare Dei blocchi Quindi posizioniamo Il nostro Blocco qua Tutto sul Nostro Perimetro Il perimetro Sul lato Esattamente così Ora Posizioniamo Una torcia In tutto Sempre Il nostro Perimetro Dietro i blocchi In tutti i blocchi Così Sopra Posizioniamo Un altro blocco Sempre Dappertutto Stai andando buio Ok E una volta che abbiamo posizionato I nostri blocchi qua La parte esterna è finita Entriamo dentro Mettiamo anche dentro Le torce Come vedete si spengono Perché dietro L'abbiamo posizionata attiva Si spengono Facendo così In modo tale che Ora che noi mettiamo Il pistone Levo Questo Ora che noi mettiamo Il pistone qua Sia Spento E quando clicchiamo La pedana Si attivi Ok Bene Facendo così La prima parte No Questo Non ho svegliato La prima parte Di Diciamo Discesa Di blades È pronta Poi dopo Mettete ovviamente Tutti i blocchi intorno Per coprire O li lascio così Per comodità Per lavorare meglio Noi abbiamo fatto Questo spazio Testiamo Andiamo qua E come vedete Cadremo dentro Ora Qua scaviamo giù Di 4 Perché di 4 Non di 1 Dico 1 Per questa cosa E cadono qua No perché se noi lasciamo qua Non abbiamo spazio Per mettere Tutto il meccanismo Quindi ci andiamo Giù di 4 1 l'abbiamo già fatto Quindi contando 1 2 3 E 4 Perfetto E rompiamo Tutto Rompiamo tutto qua E rompiamo tutto Qua sopra Bene Qua stessa cosa Di prima Facciamo un buco Al centro Bene Il centro L'ho beccato in pieno E mettiamo Le nostre pedane Intorno Ora qua Il meccanismo Non è più di 5 E 3 Ma è di 3 E 1 Quindi Mettiamo Questo qua Ma è uguale Questo qua Poi Mettiamo Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Perfetto Dobbiamo fare Esattamente tutto come prima Quindi Posizioniamo Un blocco Lì Un blocco qui Cioè 3 blocchi lì 3 blocchi qua E un blocco qua Metti 3 Vabbè Sempre la nostra torcia E il nostro blocco sopra E posizionati 2 1, 2, 3 1, 2 E 3 Stessa cosa Da tutti i lati Abbiamo praticamente Ricostruito Il meccanismo Che c'è Posizionato sopra 1, 2, 3 Ora Ritorniamo dentro Mettiamo sempre Le nostre torce Che si spegneranno Mi raccomando Avete vedere che si spegneranno tutte Perché se non si spegneranno tutte C'è un problema E posizioniamo I nostri Pistoni Non appiccicosi Vabbè che è uguale in questo In questo Contesto E anche appiccicosi Però Noi cerchiamo di utilizzare Sempre meno Risorse Ora lo testiamo di nuovo Ci spinge Ci spinge E cadremo dentro Lasciate stare Che sono in volo E cadremo dentro Bene Ora Abbiamo fatto qua Ci manca Diciamo La parte più facile L'abbiamo fatta Ora scendiamo Per fare Diciamo Il nostro posto di spawn Scendiamo Di 5 1 2 3 4 E 5 Qua possiamo Lo facciamo di No Lo facciamo di qua Vediamo se mi ricordo Sì di qua No aspetta No da quella parte Lo faccio di qua Per questione di spazio Mia Non Voi potete farlo Qualsiasi parte Qua ci sarà La nostra Camera di Di raccolta Di uccisione Diciamo Di Farming Voi potete farlo Da qualsiasi lato Vi ripeto Io l'ho fatto qua Per questione mia Dopo di spazio Per mettere tutti I ripeter Eccetera Ora qua noi contiamo 3 Dalla cima 1 2 E 3 E al terzo Posizioniamo Un pistone Che serve Quel pistone Che schiaccia Poi I Blades Rompiamo tutto Qua Perché Poi metteremo Un vetro Per vedere I blades Che cadono Ecco qua E qua sopra Pure Bene Qua avremo Il nostro pistone E Bene Ora non ci rimane Che costruire Tutta la parte Più difficile Allorghiamo La nostra Postazione Per lavorare Con Diciamo Con calma E con precisione Qua si alza Di 1 Qua possiamo Levarlo benissimo E perfetto Qua usiamo Del vetro Per Vedere Per Vedere I nostri Blaze Che cadono E vengono Spiacicati Ora Qua Siamo Attenti Non rompere Questa linea Rompiamo Tutto sotto Sotto In questo modo Così Così E così Questa Sarà sempre La nostra Cioè Sarà sempre La nostra Sarà No Lasciate stare Non sarà niente Dopo Mi daranno le parole Bene Abbiamo pulito Dietro Perché abbiamo pulito Dietro Perché Dove Posizioniamo Un blocco Al secondo Cioè 1 e 2 Qua A 1 Altezza Dove passerà La corrente Esattamente Qua dietro Arriverà Al nostro Pistone Qua si romperà E questo Andrà qua Sac 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 E Sac Ora Posizioniamo Qua una leva E testiamo Subito Che funzioni Ok Perfetto Funziona E funziona Qua possiamo chiudere Benissimo Lasciamo così E dall'altra parte La stessa Identica cosa Ora Anche di qua Posizioniamo Un nostro Blocco Di Qualsiasi cosa Però non posizioniamo Una torcia Ma posizioniamo Un pulsante Perfetto Ora Questo pulsante Darà corrente Alla rezza Posizionata qua Che noi Allargheremo La nostra Piattaforma Qua allargatela Bene Qua cosa Succederà Succederà Che noi Schiacciando Il La redstone L'ho levata Schiacciando Il pulsante Dalla corrente Alla redstone Che la redstone Andando di Uno Due Tre Quattro Fatemi Fatemi pensare Aspettate Una cosa Ancora I pistoni Tengo Mettere un pistone Qua E uno Due E un pistone Qua E qua Metteremo Il blocco Che schiaccerà I nostri I nostri Blades Ok Ora è a posto Così Qua succederà Uno Due Tre Questo Lo leviamo No Questo Lo rimettiamo Poi Andiamo in qua Di esattamente Tredici Tredici Blocchi E Tredici blocchi Perché Tredici blocchi Perché Dovremmo mettere 22 Repeater Poi come ho detto Prima 22 23 Vedete voi Se non muoiono Cioè se Non con un colpo Li ammazzate con 22 Mettete uno in più E testate Cosa facciamo allora Di qua contiamo Uno Due Tre E lì c'è il pistone Perfetto Tre E possiamo mettere un blocco davanti Tre Quattro Qua no Al quattro Andiamo giù Di repeater Anche qua Di tredici Contiamo tredici proprio Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Adesso metto Questo per Comunque facilitare La comprensione Merda C'è la ghiaia Al tredicesimo Mettiamo un blocco E qua colleghiamo il tutto Allora mettere 22 repeater Quindi contiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Redstone Dodici Tredici Quattodici Quattodici Quindici Sei C'è Sette Ciotto Diciannove Venti Ventuno Non mettiamo il 22 qua Andiamo avanti Cacchio c'è un ragno dentro Cazzo di ragni Ok 21 Poi Arriviamo fino qua No Sbagliato scusate Allarghiamo di 3 Leviamo questi Arriviamo fino qua All'altezza di questo Di questo Di questa linea Mettiamo un repeater qua Poi posizioniamo un repeater qua E colleghiamo la redstone così Perfetto Questo ritardiamo di 3 Come tutti questi Quindi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh Il mouse ogni tanto Fa le bizze Ok Se sbagliate E magari non mettete 3 Mettete 1 Mettete 2 Mettete Mezzo Mettete quello che volete Non è che non funziona il circuito In pratica Succede che I blades Dovete ucciderli Con un colpo di pugno in più Poche parole È questo Ora dobbiamo costruire Il meccanismo Il più complesso Diciamo Questo meccanismo Può essere usato in molti modi Per esempio Per costruire una porta Segreta Che rimanga aperta Per un tot di tempo E che si chiuda Diciamo Tutte cose che farò vedere Molto probabilmente Nel prossimo video Come avevo accennato prima E anticipato Allora posizioniamo Posizioniamo un blocco Poi Cosa succede? Allora qua Devo mettere un pistone qua Che spinge un blocco E un pistone qua Posizioniamo adesso Qua un buco Mettiamo sotto Un blocco Ok E una redstone Poi posizioniamo Un blocco qua Ora Dobbiamo mettere Salire su di due Così Redstone 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 Torcia E torcia Perfetto Così dovrebbe Se intestarlo Andare Spinge Arriverà tutta la corrente qua E lo rispinge via Qua Usiamo la redstone Quindi andiamo avanti di Uno Di due inutile Uno Posizioniamo questo Questo sopra Una torcia No Aspettate Questo no Così 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 Qua Dove Ingrandire un attimo Di due Così Presumare le misure E E cosa succede Qua mettiamo due Blocchi Uno di redstone Uno di questi E una Nostra bellissima Torcia Ora Dobbiamo collegare Il tutto Ai vari Ai vari Pistoni Quindi uno Arriverà qua Che sa esattamente Questo E l'altro Invece La corrente Che Schiaccerà Arriverà da qua No Sì da qua Aspettate un attimo Arriva Fatemi ricordare un attimo Perché Avevo messo Esattamente Mi ricordo Che avevo messo Questo qua Per non farlo Interferire E questo Tipo così Però Però Doveva Allora no Questo è sbagliato Lì ci deve essere Per forza la corrente Ora che mi ricordo C'era un blocco qua Poi questo Non così Ma la corrente Arrivava da Qua Così Questo si allontanava Di uno Così E Andava sopra qua E qua ci mettevo Un blocco così Ora possiamo testare Chiudiamo Spingiamo Chiude Schiaccio Tutti i blades E non va questo Aspettate un attimo Non va questo Ah qua Ritardare di 2 E così mi ero Dimenticato Così a mettere Un blocco Riproviamo Qua la corrente Arriva E' arrivata in quello Ecco fatto Avete visto La portata a posto Ora prendiamo Una slab Qua se si slab Vogliate La posizioniamo Qua E qua Questo pistone E' buggato Diciamo E gli arriva Corrente E dovrà Rimanere Purtroppo Così Però Noi Tirando su Questa leva Si le verrà Andiamo su in cima Per testarlo Vabbè Chiudiamo Qua intorno Sono i blades Scappano Chiudiamo un attimo Tutto Così vi faccio vedere Com'è A lavori Terminati Vabbè lì Pazienza Oh Stavo volando giù Beh Abbiamo visto che funziona Benissimo comunque Anche senza i blades Stavo volando giù Per terra Io ando solo lento Pezza dei blocchi Diciamo La prima parte E' fatta Andiamo giù Anche di qua La chiusura Sarà prevalentemente In questi due lati Così dentro I blades Non scappano Quindi Possiamo anche Provare il test Così Andiamo su Scriviamo Spawner Blade Non Y Perfetto Spawnalo Andiamo giù Ecco qua Sono arrivati i blades Attiviamo questo Schiacciamo Sentite il rumore Che si fa danno Ah si si attiva Noi con i pugni Ora potremmo Colpirli Ci dropperanno Oltre l'esperienza Anche Anche Le verghe di blades O la polvere No la polvere Aspara No scusate La polvere Aspara La danno I Gust Bene Se vogliamo testare Come ho detto io prima Così usiamo un altro Qua da 3 Attiviamo questo Che scendano E mouse E riclicchiamo Vediamo Se non muoiono Ok Non sono morti Quindi possiamo lasciarlo Vedete Tutti con un morto Con un colpo Sono morti Perfetto Quindi potete aggiungere Anche uno In questa maniera E se non funziona Come l'ho fatto vedere prima E con un colpo Moriranno tutti i blades Direi che Ne ho provate Anche altre Questa diciamo La più efficiente E comunque L'importante è che Non andate più in basso Vabbè più in basso Anche Non ingrandite Questo spazio qua Perché Come avevo spiegato Nell'altro Video Abbiamo Un range Quindi noi siamo qua E rientriamo Nelle Nella fascia Dove I mob Ci osservano E Spawnano Allora vediamo Siamo a 21 Così Avete visto Sono morti tutti Ci hanno droppato Blazerod Ovvero Verga di blaze In italiano Bene Direi che il video è finito Il Prossimo video Farò Le porte Come richiesto Sabato partirò Per le vacanze E forse Se riesco Farò dei video Dato che ho Minecraft Sul cellulare Farò magari Qualche tutorial Sul cellulare E caricherò Dal cellulare Ma sul pc Tornerò Poi Ad agosto Per una settimana Che quella settimana Cercherò di caricare Qualche video Che poi partirò Per altre due settimane Ragazzi Estate per tutti Quindi ne approfitto Anche per farmi Dei viaggi Per festeggiare La maturità Andata bene E per dire Svagarmi un po' Ah Vorrei fare un appunto Iscriviti alla pagina facebook Dai così mi consigliate Che video fare Basta mettere un like E scriviamo Un messaggio privato Un post Tranquillamente E io vi accontenterò Come quello che mi ha chiesto Di fare Tutorial sulle porte E a pistoni Vi accontenterò subito E per quello che mi ha chiesto Di giocare insieme In un server Nello sky wars Bene Quello in server Dove giocavo prima Ho mandato una mail All'admin Che mi sono dimenticato La password Dai di hot Devo scrivermela Sennò cercherò Un altro server Tranquillamente E il problema sta Nell'incontrarci Un determinato orario Quindi farò magari Uno streaming Però ora che ci sono ancora Pochi iscritti Non come l'altro canale Che c'erano di più Non ha molta influenza Magari giocheremo insieme Io e te Dai Ciao a tutti ragazzi Lasciate un like al video Un like alla pagina Scrivetemi cosa volete Nei messaggi privati Risponderò a tutti Se avete dei dubbi Scrivetemi E risponderò a tutti Di nuovo Buone vacanze Perché andare in vacanza E per il resto Buon estate Ciao ciao